Prima in collo, ora io anticipo sul suo attacco. Tiro il braccio e mi prendo già questa posizione. Da fuori ci facciamo il Tani Otoshi, caduta nella valle in italiano, corello in zana. Da qua cosa faccio? Intanto siccome sono dietro, non va bene la posizione, non la devo spostare o sulla spada o sull'altra. Se io sono qua, secondo me la posa migliore è spostarlo sull'altra, così già la mia gamba è stirata e scivolo. Dopo che sono scivolato verso il mio e non indietro... Non importa. Stai di qui dove sei? Stiamo facendo questa posizione insieme a me. E no, scusa, scusa, scusa. Piro. Preso. Adesso di lui. Adesso di lui. Ok. Facciamo.